Ginnastica posturale, metodo scientifico, prevede tre fasi di lavoro. Andremo adesso ad analizzare un esercizio presente nella seconda fase, quella di training. Posizionandoci in ginocchio, tenendo con le mani una fitball, eseguiremo delle sequenze di movimento che avranno il compito di migliorare la catena cinetica anteriore. Inizialmente effettueremo durante la fase inspiratoria un'estensione del capo, durante la fase espiratoria ritorneremo alla posizione di partenza. Inspiriamo, estendiamo il capo, espiriamo, ritorniamo alla posizione di partenza. La seconda fase dell'esercizio prevede l'abbinamento all'estensione del capo, il sollevamento del corpo in avanti, portando le braccia anteriormente distese. Espiriamo, ritorniamo alla posizione di partenza, inspiriamo, estendiamo il capo, estendiamole anche, portiamo le braccia in avanti. Ritorniamo alla posizione di partenza ed abbiniamo un'altra sequenza di movimento. Quindi nuovamente inspiriamo, estendiamo il capo, saliamo su e proseguiamo il movimento delle braccia posizionando la palla al di sopra del capo. Nuovamente espiriamo, ritorniamo alla posizione di partenza, inspiriamo, risaliamo su. L'ultima sequenza di movimento per sviluppare maggiormente la catena anteriore sarà rappresentata dal portare in anteroposizione il bacino. Quindi andremo ad enfatizzare maggiormente il lavoro sulla catena cinetica anteriore. Nuovamente, quando espiriamo, ritorniamo alla posizione di partenza, inspiriamo, riportiamo il corpo in alto e estendiamo completamente la catena. In questo modo tutti i muscoli che consentono la flessione e la chiusura del corpo verranno allungati e di conseguenza andremo a migliorare la postura.